Edizione della notte del nostro telegiornale, bentrovati, un cordiale saluto a voi tutti. C'è la cronaca in apertura purtroppo con una serie di incidenti che si sono verificati questo pomeriggio sulla Fondovalle del Trigno. In particolare uno dei due è risultato mortale vicino Castelguidone. Si sono scontrate due auto. Ha perso la vita l'attrice Paola Cerimele di Agnone. Ascoltiamo il servizio di Valeria Migliore. Sul suo profilo Facebook l'ultima foto con Sergio Castellitto è una frase che desta amarezza alla luce di quanto è accaduto. A volte la vita ci sorprende e ci regala tanta felicità. Lo aveva scritto ieri l'attrice agnonese Paola Cerimele, 48 anni, morta sulla Fondovalle del Trigno dopo uno schianto avvenuto all'altezza di Castelguidone. Volto noto della televisione, ha lavorato nei più importanti teatri italiani, recitando anche nel film Non ti muovere, diretto proprio da Castellitto. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente, ma stando a quanto si è appreso dalle prime informazioni raccolte, lo schianto frontale sarebbe avvenuto tra un Audi A4 e una Fiat Panda, su cui viaggiavano la Cerimele e un uomo trasferito d'urgenza al Santimoteo di Termoli in gravissime condizioni. Si tratta del compagno della Cerimele, Raffaello Lombardi, anche lui attore. L'altro ferito che viaggiava sull'Audi A4 è stato trasferito invece al Sampio di Vasto. Sul posto i vigili del fuoco di Agnone e Ortona, i sanitari del 118 e i carabinieri di Vasto per il ripristino della viabilità. L'incidente ha infatti paralizzato il traffico che è stato deviato sulle arterie secondarie, troppo strette per permettere il transito dei camion su entrambi i sensi di marcia. Per questo si sono formate code chilometriche anche sulle deviazioni, creando disagio agli altri conducenti di passaggio. Tutta la comunità di Agnone dove vivono i familiari è sotto shock per la tragica notizia. Non ci sono parole per descrivere l'immenso dolore che tutti noi stiamo provando, ha scritto il sindaco Daniele Saia in un messaggio di cordoglio sui social. Paola Cerimele, una donna in carriera, seguita e ben voluta da tutti, strappata troppo presto alla vita. E Paola Cerimele proprio ieri aveva incontrato in un giorno felice Sergio Castellitto, l'attore col quale aveva lavorato ad Agnone. Ripercorriamo adesso la sua brillante carriera nel servizio di Giovanni Di Tota. Insieme a Sergio Castellitto aveva recitato nel film Non ti muovere, girato anche in Molise con Penelope Cruz qualche anno fa. E con l'attore di origini molisane si erano rincontrati in questi giorni, Paola Cerimele. Aveva messo la foto ricordo sul suo profilo Facebook, felice di averlo rivisto. Aveva studiato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Silvio D'Amico. E da subito la sua carriera era stata lanciatissima sia nel mondo del teatro che nel mondo del cinema, passando per la TV. Artista trasversale ha interpretato sia ruoli nelle commedie che in film drammatici. Protagonista dal 2010 con la compagnia stabile del Molise con Raffaello Lombardi e le collaborazioni con Edoardo Siravo, Daniele Pecci, Lucrezia Lante della Rovere. Il Cappello di Ferro con la regia di Emanuele Gamba in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura. Per la regia di Giulio Base, altro molisano d'origine, aveva interpretato un cielo stellato sopra il ghetto di Roma nel 2019 e ti presento Sofia, commedia del 2018 con Fabio De Luigi. Nel 2010 aveva fondato insieme al suo attuale compagno di vita Raffaello Lombardi, la compagnia stabile Molise che oltre ad occuparsi di produzione teatrale, svolgeva anche formazione per i giovani attori con lezioni di recitazione a Boiano e a Campobasso. E un altro incidente, come dicevamo all'inizio, si è verificato sempre sulla Trignina, a poca distanza da quello mortale al Bivio di Trivento. Poco prima del 2018 si sono scontrate una Punto e una 500. Sulla prima auto viaggiavano tre donne che sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i carabinieri di Trivento e i vigili del fuoco. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Per estrarre una delle donne, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare oltre un'ora. E adesso la pagina politica, giustizia sociale e giustizia ambientale. Sono questi temi illustrati nel corso di una conferenza stampa dall'alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana. Ascoltiamo. Sono due i pilastri che reggono l'alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana. La giustizia ambientale e giustizia sociale. Ne hanno parlato i candidati molisani nel corso di una conferenza stampa. Sara Ferri è capolista al proporzionale Camera. Dietro di lei Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana. Negli anni i temi che abbiamo portato avanti sono molto collegati tra di loro. La giustizia sociale significa anche giustizia ambientale. Significa parlare di welfare, di diritti, di sanità pubblica, di diritto al lavoro, di diritto alla casa e allo stesso tempo parlare di energie rinnovabili, di fotovoltaico, di incentivare questi settori che appunto a loro volta possono produrre ricchezza e miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle cittadine. Al senato proporzionale la candidatura è andata Bartolomeo Terzano da anni impegnato sul versante della tutela ambientale. I temi che abbiamo scelto da vent'anni a questa parte per una questione di moralità, di etica professionale, per una questione anche di impegno civico, sono quelli della salute dei cittadini e della salute degli animali, e della salute dell'ambiente perché i tre aspetti vanno ormai presi in stretta connessione in quanto dobbiamo occuparci della salute globale. A sostenere la lista Verdi-Sinistra italiana c'è anche l'Arcigei Molise presente alla conferenza stampa, anche Luce Visco, presidente molisana dell'Associazione. Arcigei Molise appoggia e supporta la lista Alleanza Verdi e Sinistra perché ci riconosciamo con questa politica e perché la nostra candidata Sara Ferri, nonché segretaria di Arcigei Molise, da anni sostiene battaglie per i diritti civili. Nel programma, tra l'altro, della lista, uno degli unici partiti in Italia c'è il matrimonio egualitario e la lotta alle discriminazioni con un disegno di leggi concreto contro l'homo bilesbo-transfobia. All'incontro ha partecipato anche Alessandra Salvatore, proveniente dal PD e candidata al collegio uninominale della Camera. Con Verdi e Sinistra dice abbiamo temi comuni. Non credo che ci siano differenze. Abbiamo ben chiaro che i temi fondamentali da declinare poi sul nostro territorio, e cioè transizione ecologica, lavoro, qualità della vita delle famiglie, in questo ricomprendo la questione dei diritti civili, la questione dell'attenzione ai bambini e alle bambine, ai ragazzi, alle ragazze, alle persone anziane, insomma tutto quello che è benessere delle famiglie sono temi che ci trovano assolutamente d'accordo, che fanno parte di una piattaforma programmatica assolutamente sovrapponibile su questi temi che sono quelli poi che interessano la nostra regione. Lavoreremo tutti insieme. E torniamo adesso alla pagina politica. L'ex presidente della provincia di Campobasso, ex assessore regionale e attualmente sindaco di San Giuliano del Sagno, Rosario De Matteis, prende le distanze dalle scelte romane che hanno determinato candidature esterne nel centrodestra in Molise. Non sarò complice di questo autolesionismo, scrive in una nota. Annuncio il mio distacco da questa tornata elettorale, prosegue De Matteis, e chiedo ai molisani di protestare contro queste scelte romane. E intanto, mercoledì prossimo, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sarà a termo l'appuntamento alle 12 all'Idola Lampara per un incontro con i candidati e i rappresentanti delle categorie. E adesso siamo all'andamento del Covid in Molise, con altre due vittime, due donne di 95 e 90 anni, che erano ricoverate al Cardarelli, rispettivamente di Porto Cannone. Frosolone sale a 668 il numero totale delle vittime. In Molise sono 141 i nuovi casi emersi dai 639 tamponi processati, 21 a Campobasso, 18 a Termoli e 12 a Isernia. Ci sono anche 160 guariti, gli attualmente positivi sono 3.675. E adesso andiamo a Isernia. Si preannuncia una seduta movimentata, quella in programma per il prossimo Consiglio Comunale, che dovrà affrontare le interrogazioni sull'otto zero, adesione all'Egam e vigilanza notturna. Tutti argomenti molto attuali e divisivi. Ci dice tutto nel servizio Enzo Di Gaetano. Consiglio Comunale al calor bianco, quello in programma martedì prossimo a Palazzo San Francesco. Tanta carne al fuoco e tutti argomenti divisivi che hanno spaccato la pubblica opinione isernina e la stessa assise civica. Si parte con il lotto zero e con la novità dell'amministrazione Castrataro, che ha decisamente cambiato orientamento. Prima un rifiuto netto dell'opera da 150 milioni, poi dopo le boccature di Tarre e Consiglio di Stato, Castrataro ha rivisto la sua strategia, lanciando la proposta di un progetto rivisitato con una bretella che passi per le piane, al fianco del centro commerciale, dove sorgerà il McDonald e la nuova caserma dei Carabinieri. Poi costeggerebbe l'area degli impianti sportivi e infine la zona PIP di Miranda. Tutto con i relativi svincoli, insomma un'opera di collegamento trasversale interna al territorio cittadino. A quel punto, ha detto il sindaco, potremmo anche approvare un lotto zero, che non sarebbe più quel tracciato pedemontano, che ora si limita a collegare il bivio di pesche della statale 17 alla superstrada Isernia-Castel di Sangro. È chiaro che l'ultima parola aspetterebbe all'ANAS, perché bisognerebbe rifare tutto da capo. Per la politica è possibile, vedremo l'ANAS cosa dirà. L'altro argomento caldo, anzi rovente, è quello dell'adesione di Isernia alla Grim, la nuova società pubblica regionale, braccio operativo dell'Egam, che dovrà gestire tecnicamente acquedotto in rete fognaria del capologo Pentro. Anche qui le accuse e le polemiche incrociate si spregano. Per la minoranza, l'adesione all'Egam e ora alla Grim è un grave errore. Isernia tutta l'acqua che le serve, sgorga dal sottosuolo, percorre da duemila anni le condotte dell'antico acquedotto romano e non c'è mai stato bisogno di apporti esterni. Anzi, è vero il contrario. Per la rete fognaria, poi, non si vede a cosa possa servire l'adesione a un soggetto esterno, quando l'attuale sistema di scarico delle acque nere funziona a dovere, con un depuratore a valle della città, che sarà anche potenziato grazie a un finanziamento chiesto dalla precedente amministrazione. Insomma, Egam e Grim per gli Isernini significheranno solo un aumento spropositato di costi. Fin qui la minoranza. Infine, l'interrogazione sulla vigilanza notturna, che sta agitando l'estate isernina, parte tutto da una convenzione tra il Comune e una società di vigilanza privata, che ha avuto l'incarico di sorvegliare la movida isernina, soprattutto nei vicoli e nelle piazzette del Centro Storico. Un'iniziativa pubblicamente lodata dall'Associazione Centro Storico, ma che non è andata giù alle minoranze. Di tutto si parlerà in aula il prossimo 30 agosto alle 16. Ancora segnalazioni di degrado a Campobasso. Stavolta riguardano la strada e le aree verdi che costeggiano l'ospedale Cardarelli, Erbacce e Cartacce. Ovunque danno del presidio ospedaliero regionale un'immagine di degrado e abbandono. Ci racconta tutto Anna Maria Di Matteo. Piovono ancora polemiche sull'amministrazione comunale di Campobasso, sulla gestione del verde pubblico e sulla pulizia di strade e aree verdi. In queste settimane decine sono state le segnalazioni di cittadini sullo stato in cui si trovano le aree circostanti, l'ospedale Cardarelli, zona molto frequentata. Lì arrivano ogni giorno centinaia di persone provenienti non solo dal Molise ma anche da fuori regione. Lo spettacolo che si trovano di fronte è davvero desolante. Cartacce e buste di plastica disseminate ovunque, lungo tutto lo spartitraffico e poi rifiuti abbandonati ai bordi della strada che arriva fin davanti all'ospedale, sulle aree verdi. Un bigliettino da visita, tutt'altro che edificante per la città capoluogo di regione. Eppure basterebbe poco per ripulire tutta la zona. Invece ci troviamo di fronte ad una situazione che va avanti da mesi, senza che nessuno ad oggi abbia ancora posto rimedio. Alcuni cittadini hanno segnalato pubblicamente il degrado che interessa le aree di pertinenza dell'ospedale regionale, ma evidentemente senza risultato come documentano le immagini girate in mattinata. Insomma, l'amministrazione comunale soprattutto negli ultimi mesi non sta brillando in quanto a decoro urbano e verde pubblico. Ai bordi delle strade cittadine, oltre a quelle delle periferie, ci sono erbacci rifiuti che vengono abbandonati da cittadini incivili. È arrivato il momento di dire basta, di intervenire e mettere fine a questo che è un vero e proprio scempio. E restiamo a Campopasso per altre lamentele che arrivano da diversi cittadini. In particolare, ci segnalano in via Monsignor Bologna il furto dei mastelli della differenziata. Un fatto increscioso, ci ha detto un telespettatore, non è ammissibile che la sera si porti l'immondizia nei contenitori e la si apponga nella rastregliera e il giorno dopo il mastello è sparito. Tutto ciò denota inciviltà. Dopo le polemiche sull'annunciata assenza degli amministratori Pentri alla perdonanza celestiniana, anche una delegazione del Comune di Sernia ha partecipato al corteo della Bolla dell'Aquila che ha aperto la tradizionale ricorrenza. I dettagli nel servizio di Valeria Migliore. Come ogni anno hanno preso il via all'Aquila le manifestazioni per la ricorrenza della perdonanza celestiniana. Dopo l'accusa di aver trascurato la tradizione legata al Santo Patrono, anche una delegazione del Comune di Sernia ha partecipato al corteo della Bolla che ha attraversato la città. Con lo standardo municipale, gli assessori Francesca Scarabeo e Ovidio Bontempo hanno preso parte all'evento che ha fatto entrare nel vivo la perdonanza. La discesa del fuoco del morrone dall'eremo celestiniano di Sulmona ha avviato il cammino del perdono, l'itinerario segnato dall'accensione di un tripode in ognuno dei 23 paesi coinvolti e dalla firma di ogni sindaco su una pergamena che richiama i valori simbolici della storica bolla, atto di sudalizio tra comunità locali nei valori di pace e solidarietà. Tutto come ogni anno nel segno dell'inclusione che da sempre caratterizza l'Aquila soprattutto in un momento storico difficile segnato dalle guerre in cui il messaggio di pace e perdono lasciato ai posteri da Celestino V risuonerà ancora più forte e chiaro in tutto il mondo. Bisognerà però attendere domenica 28 agosto per l'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio ad opera di Papa Francesco. A Tavenna torna la tradizione dell'insegnamento del tombolo in auge fino a 50 anni fa per le bambine e le adolescenti un antico mestiere giunto in paese probabilmente dall'immigrazione croata a partire dal 1500 è diventato parte della tradizione e del ricordo nei corredi delle nonne e delle madri da tramandare il sindaco Paolo Cirulli e la sua amministrazione vogliono e cercano di riportare l'arte del tombolo al giusto riconoscimento domani sabato e domenica si terrà un corso base gratuito aperto a persone di ogni età bambini e adulti per insegnare le basi del tombolo e assieme ricreare quella vicinanza fra generazioni che può essere solo l'infa vitale per il paese e adesso apriamo la pagina degli spettacoli un successo annunciato e confermato il concerto di Francesco Renga ha richiamato a Boiano il pubblico delle grandi occasioni il cantautore ha ripercorso le tappe più importanti di una carriera ricca di successi vediamo il servizio in chino davanti a un pubblico spettacolare grazie Boiano eravamo tanti e tanta tanta roba sono le parole sul suo profilo social con cui Francesco Renga commenta postando delle foto eloquenti il concerto di Boiano un successo annunciato e confermato migliaia di persone hanno assistito all'evento clou dell'estate boianese che riporta indietro le lancette a prima della pandemia quando nella città Matesina il 24 agosto festa di San Bartolomeo arrivavano ogni anno grandi nomi della canzone Renga lo smalto di sempre grande presenza scenica parla con il pubblico lo coinvolge gli lascia il microfono sui ritornelli delle canzoni più conosciute Piazza Roma è una marea di luci telefonini che tentano di trasmettere o catturare un ricordo di una serata importantissima che restituisce normalità e festa non solo a Boiano tantissimi fan di Francesco Renga che sono giunti da tutto il Morisi e mi credo e mi credo ci sarai quando la malinconia vestirà i ricordi della vita mia sul palco sul palco l'energia è costante di primordine il set di musicisti tra loro da diversi anni anche Filmer ha la batteria in passato sul palco con i Poo e che collabora con grandi nomi riconoscibile il suo groove tecnicamente curato e attento alle sfumature l'evento rientra nel cartellone di turismo e cultura con il sostegno della regione Molise e fa parte del cartellone delle iniziative organizzate dall'associazione Vivi Boiano Diletta Aloia 21 anni di termoli e la nuova Miss Molise incoronata durante una serata dalle mille emozioni nella suggestiva cornice del Borgo di Larino ai piedi del Duomo per l'occasione madrina d'onore direttamente da Napoli Miss Italia Zeudi di Palma ascoltiamo Andrea Nasillo Miss Molise 2022 qui nel Borgo di Larino e con il numero 13 Diletta Aloia Miss Italia Miss Italia che in corona Zeudi di Palma complimenti anche Antonella Iaffaldano al secondo posto a 21 anni ed è di termoli studentessa di farmacia sorriso smagliante occhi luminosi Diletta Aloia e la nuova Miss Molise in coronazione nell'incantevole cornice del Borgo di Larino ai piedi della cattedrale un oscio pieno di sorprese dal cabaret alla danza ricco di emozioni al secondo posto Antonella Iaffaldano sul terzo gradino Cecilia San Pieri 7 le prefinaliste molisane che insieme a Diletta rappresenteranno la nostra regione nella prossima tappa di Roma esilaranti le esibizioni del comico Antonio Mustillo in una serata fortemente evoluta dal comune di Larino dall'assessorato alla cultura in modo particolare 24 splendide regginetti hanno calcato la passerella fino al momento più emozionante la nuova Miss Molise entusiasta di rappresentare la propria terra è un'emozione unica sono orgogliosissima di rappresentare la mia regione che spesso viene dimenticata da tutti però sono fiera di rappresentare di portarla a Miss Italia ospite d'onore e madrina della serata raggiante e meravigliosa direttamente da Napoli è arrivata anche Miss Italia a Zeudi di Palma un'occasione speciale per conoscere un luogo genuino e pieno di valori è stata ovviamente un'emozione bellissima partecipare ad una serata meravigliosa come questa organizzata da una donna splendida come Monica posso dire veramente impeccabile in ogni cosa le ragazze sono state anche loro meravigliose hanno cavalcato la pastorella in maniera lodevole soddisfatta l'agente regionale del concorso Monica Mastrantoni un percorso caratterizzato da diverse tappe un'esperienza piena di emozioni con tanto lavoro alle spalle è stato un gran finale una serata meravigliosa in questa location larinese che ci ha accolto a braccia aperte è stata eletta una Miss Molise bellissima intelligente con tanti valori così come tutte le altre prefinaliste che andranno a Roma per rappresentare Telemolise è stata davvero una splendida emozionante serata sarà Salvatore Cerimele filmmaker pilota di drone e montatore video di Agnone che ha collaborato anche con Telemolise uno dei nuovi registi di porta a porta alla trasmissione di punta di Rai 1 ideata e condotta da Bruno Vespa che ormai da oltre 20 anni si occupa di politica e attualità e adesso parliamo del Campobasso Summer Festival perché grande successo ha ottenuto lo spettacolo di satira anche i molisani nel loro piccolo si incazzano atto finale sentiamo Tonino Danese la satira protagonista nella terza serata del Campobasso Summer Festival nel parco De Filippo anche i molisani nel loro piccolo si incazzano atto finale spettacolo di successo del collega Enzo Luongo e di Pippo Venditti ha fatto registrare il pienone anche nel capoluogo pungenti e frizzanti con foto e immagini i due accompagnati anche dalla musica hanno ironizzato su situazioni dichiarazioni fatti e personaggi della nostra regione dal mondo della politica quello della tv e del giornalismo ne hanno risparmiati ben pochi sempre in modo simpatico e coinvolgente nelle due ore di spettacolo anche ospiti d'eccezione come la scrittrice molisana Valentina Farinaccio il musicista Giuseppe Spedino Moffa e Andrea Avornia componente della banda della Masciona tra i protagonisti dell'omonima serie Cult in rete in apertura a sorpresa collegato in video Herbert Ballerina Luigi Luciano che ha ironizzato sulla sua città Campobasso Allora Campobasso dicevamo è una piangente cittadina a 700 metri sul livello del mare avete presente non è un paese per vecchi il film non c'entra niente il contrario una volta hanno trovato uno giovane e l'hanno messo dentro una palla di vetro gigante che quando si capovolge esce la neve finta e l'hanno esposto in comune come attrazione a Campobasso ci si accontenta di poco basti pensare che c'è un palazzo in centro soprannominato un grattaciele questo perché ha ben 10 piani divertente anche l'intervento di Fabio Celenza celebre doppiatore della trasmissione propaganda live che ha doppiato in diretta sul palco politici e potenti della terra noi siamo andati a comprare una cosa siamo andati e mia nonna abbiamo preso giusto due cose due autobotte con l'armatura due bignacoli a chema 30 coppette 33 coppettoni e tre foto con me anche se è come se Luca riesce a mangiare un litro di patate domani mattina in comune a Campobasso verrà presentato l'evento di sabato primo viaggio a cavallo sulle vie della transumanza Campobasso Torella del Sannio sul tratturo Castel di Sangro Lucera intanto continuano gli impegni e le attività di ora viene il bello il progetto di promozione dei territori promosso dalla pastorale del turismo dell'Arci di Ocesi di Campobasso Boiano con visite ai musei del Fortore sabato e domenica sentiamo Tonino Danese il Molise della ruralità del paesaggio e delle tradizioni il Molise dei musei della cultura diversa le iniziative che ci sono state e che sono in programma la famosa transumanza dei Colantuono ha subito uno stop da un punto di vista di evento come lo conosciamo a causa del covid le mandrie comunque sono state spostate negli stalli pugliesi e riportate poi in altura ad Acquevive di Frosolone sabato 27 agosto si tornerà però sul percorso attraversato dalla famiglia Frosolonese sul tratturo Castel di Sangro Lucera da Campobasso a Torella del Sagno il tratto finale un viaggio a cavallo organizzato per oltre 20 potenziali mandriani senza bovini da accompagnare si partirà da Contrada Selva Piana nel capoluogo e si raggiungerà il tratturo in programma la colazione tipica il guado del biferno molto suggestivo il passaggio a Ripalimosani Santo Stefano Ratino Castropignano e Torella del Sannio un evento organizzato tra gli altri dalle associazioni tratturando e cavalieri della transumanza Nicola Di Niro di Cram Geaco coordinatore del progetto ha spiegato che l'obiettivo è quello di ritrovare i tratturi perduti a causa della pandemia e magari in autunno riprendersi quello che effettivamente manca cioè la transumanza vera e propria domani mattina l'evento sarà illustrato in una conferenza stampa al comune di Campobasso continuano poi gli impegni e le attività di ora viene il bello il progetto di promozione dei territori promosso dalla pastorale del turismo dell'Arcidiocesi di Campobasso Boiano il 27 e 28 agosto sabato e domenica sono programmate visite ai musei del fortore Riccia con il museo delle arti e delle tradizioni popolari Tufara con lo spazio dedicato a San Giovanni Eremita e domenica sarà celebrata la solenne funzione di chiusura della Porta Santa per l'anno giubilare straordinario dedicato al santo Gielsi con il museo della festa del grano Gamba Tesa con il suo bellissimo castello dove domenica mattina si potrà seguire uno spettacolo con musiche e danze del rinascimento in abito antico Infine Campolietto con il museo delle arti dei fuochi pirotecnici E adesso l'appello per l'adozione di una cagnetta che un automobilista di passaggio ha abbandonato in piazza Civitanova del Sagno purtroppo ci riferiscono dal paese chi ha visto la scena non è riuscito a prendere la targa dell'auto si tratta di una cagnolina di taglia piccola un incrocio bigolbracco di circa un anno sta per essere sterilizzata ha un carattere buono e molto dolce al momento se ne stanno prendendo cura due turisti canadesi di Montreal che sono in paese chiunque abbia seriamente intenzione di adottarle amarla veramente può contattare come sempre la nostra redazione bene termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale l'appuntamento è per domani mattina con la prima edizione e con la nostra rassegna stampa a voi tutti buonanotte